Rocky, non arrenderti! Io ho fiducia in te! Mi spiace! Ehi, ti spiacerebbe? Cosa? Questa? Ehi, conoscete questa ragazza? Ma un vestito grandioso, non trovi? Fantastiche le calze! Non ricordo quando abbiamo scattato la foto! Potete parlare un attimo con la mia amica? Certo! Vi presento le due coppie rimaste in gara! Siamo noi! Ovvio! Siamo in finale! Wow! Ehi, chissà che cosa vuole, Ken! State qui, vado a vedere! Le scuse, almeno! Rocky! Puoi chiamarmi, Barbie? Quelle ragazze hanno qualcosa che deve assolutamente vedere! Certo! Fermo! No! Volevo dire... Dimentica! Quack! Oh! E adesso sei una papera, visto che Tigre lo trova divertente! Quack! 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 Ehi! Lasciate che vi dia una mano! Grazie! Sparisci! Forza, Trey! Ora la tensione è arrivata alle stelle! Ma se pensi che poi usciremo insieme, ti sbagli di grosso! Tocca a noi adesso? Manca poco! Cosa voleva, Ken? Solo uno spuntino! Gli ho portato qualcosa! Ora sta bene! Trey e Barbie, tocca a voi! Che vinca il pattinatore migliore! Chi sono io, naturalmente! Sì, bravissimi! 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 Bravi! Che bravi! Sì! Che bravi! Tutto così! Sì! Bravi! Sì! Bravissimi! Bravissimi! Siete i migliori! Pensi di essere così irresistibile tra i Rirdon? Beccati questa! Rocky, che cosa stai facendo? Quella era una magia! No, non lo è! Non era una magia! E allora?